ben trovati davide il critico froginone bologna zero a zero bisogna stare calmi bisogna stare molto 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 calmi molto e sto parlando con me perché ragazzi ragazzi oggi non fai gol neanche con le mani neanche con le mani se l'arbitro arriva ti dà la palla in mano e ti dice senti con le mani buttala di là dalla riga di porta che ti dà il gol tu prendi la palla la tiri per terra picca contro la riga picca contro la traversa e ti rimbalza in faccia questo è l'unico risultato che io mi aspetto dal fatto che tu tiri verso lo specchio poi mentre mi arrabbio chiaramente col buono non doi e mi ricordo anche chi mi ha fatto vincere in coppa italia quindi mi sento quasi in colpa a gettare questa ira nei suoi confronti però però è un dato di fatto che tu da lì devi fare gol o perlomeno nella seconda occasione togliti togliti spostati esci fai sparisci smaterializzati non so fai come carson sparisci fai qualcosa invece no sta lì in mezzo la tocca con l'unghia ma tagliatele quelle unghie dacci coi tacchetti come ha fatto a non entrare mi viene da piangere come ha fatto a non entrare assurdo assurdo poi non è l'unico che si è mangiato dei gol oggi eh 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 bisher non è che se fai il centrocampista non sei buono di far gol eh sei dentro l'area ursolini ti dà una palla meravigliosa bisogna che da lì fai gol fai gol basta sa scusa che è il centrocampista non ha il gol nel sa però bisogna che è calcio vince chi fa gol bisogna che tu mi faccia gol eh castro ti sono venuto a prendere in aeroporto santi io sono meno ma io santi uno che viene a prenderti in aeroporto oggi a frosinone mi ho svegliato le quattro e mezzo non me lo merito un gol cos'è quella sciabatatina lì cos'è cos'è quella sciabatatina lì eh che cos'è cosa mi rappresenta santi cosa mi rappresenta io ti voglio bene sono a prenderti però me lo merito me lo merito no oggi un gol a frosinone me lo merito perché quella è un'altra domanda occasione quella è un altro gol mangiato eh è un altro gol mangiato comunque fin della partita primo tempo non siamo belli per niente loro non è che ci pressano loro ci inseguono cioè io non so quanto abbiano corso loro nel primo tempo sembrava una cazza all'uomo ci inseguivano e avevano il coltello tra i denti per venire a prendere il pallone onore a loro ci mancherebbe altro noi molti imprecisi molto molto imprecisi tra l'altro è scorretto è scorretto è scorretto che a frosinone abbia giocato il sosia che fa tra l'altro nella vita il carpentiere di calafiori una cosa indecente siamo stanchi di sosia che vengono a giocare al posto di riccardo calafiori era già successo a cagliari si è ripetuto oggi a frosinone inaccettabile inaccettabile io voglio l'originale perché questo qua non è che gioca nell'under 21 della nazionale questo qua gioca probabilmente nell'under 21 di freccette perché oggi calafiori partita brutta molto 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 brutta resti per me fortissimo perché sei fortissimo però oggi molto impreciso molto molto impreciso dai mi è andato in porta uno dei loro cioè ragazzi noi tutte le partite ho capito che facciamo la nostra cavolata perché Belukema regala la palla a Niang che si addormenta tu oggi regali la palla a uno del frosinone in casa con la salernitana due occasioni Orsolini una l'altra Zirze la stoppa male gli diamo il pallone per arrivare in porta e il buon Ravaglia fa delle ottime parate ho capito che noi una a partita la facciamo per oggi calafiori hai voluto strafare hai provato a fare anche autogol come a cagliari non ci sei riuscito però ci hai provato ho apprezzato ho apprezzato che tu abbia provato a copiare al 100% la prestazione di cagliari me ne sono accorto oggi calafiori molto molto male se le makers se le makers ti avrei tirato giù anche io perché a parte la mossa alla kung fu panda il resto è nulla il resto è nulla cioè io Alexis molte volte non capisco come tu possa passare da una prestazione incredibile una prestazione così brutta come quella di oggi anche perché l'avversario non era il Real Madrid era il frosinone sì questi correvano però è calcio non è atletica se tu riesci a giocare un pochino fa la terra e usi la testa vai in porta non ti dico tutte le occasioni però ti rendi molto molto pericoloso ma moltissimo pericoloso moltissimo Cristian Senepoche in fase di copertura anche anche quando provavate a lanciarla per aria verso Zirze uno la sparava fuori nei distinti a destra e l'altro in tribuna a sinistra io ho visto veramente tanti 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 errori molto molto imprecisi e in una gara non perfetta avere tre occasioni del genere meritate e guadagnate perché le occasioni non capitano per caso fa ancora più arrabbiare fa ancora più arrabbiare perché oggi potevi portarla a casa facendo il minimo sforzo io a Tiago non ho niente da dire perché comunque primo tempo il Bologna non gioca benissimo però ho visto più errori tecnici che di concetto o di posizionamento in campo Zirze magari ha sbagliato qualche stop Ebischer qualche passaggio Cristian Senepoche molto 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 macchinosi Calafiori irriconoscibile Lukumi ha fatto una buona gara io credo che oggi Freuler e Lukumi siano i migliori in campo insieme a Skorupski che anche oggi sul calcio d'angolo fa una bellissima parata e poi salva salva al 100% me e Calafiori perché fa una parata importantissima nel primo tempo su un retropassaggio osceno osceno ragazzi quindi primo tempo molto macchinosi molto impacciati molto scorbutici col pallone merito anche dell'avversario secondo tempo devi essere più incisivo hai tre opportunità importantissime ma per me potevi averne anche di più perché il Bologna del secondo tempo affrontava un forzinone che aveva dato tutto nel primo quindi dovevi essere ancora più presente nella loro metà campo hai giocato secondo me una buona partita tutto sommato al di là di questi errori che ho appena citato tu la vittoria te la meritavi ragazzi per me Bologna oggi si meritava di vincere a tre palle e gol cioè a tre palle e gol ma non è che dici hai tre palle e gol sono dei tiri da fuori no uno 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 da dentro la porta l'ha presa con l'unghia e l'ha picchiata per aria nella stessa azione se si toglie completamente fa gol quello dietro prima Ebischer nell'area piccola era ormai Castro dimenticato da tutti da tutti da un metro ci abatta malissimo cioè tu le occasioni le hai avute per me sta partita la devi vincere poi il calcio è strano Beppe però 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 se poi mi trovo qua adesso che un po' la pazienza scappa ci sono dei motivi ecco ci sono dei motivi è comunque un punto guadagnato sull'Atalanta che perde a Cagliari grazie mille Viola incredibile incredibile l'unica cosa che ha fatto Viola di buono per il Bologna l'ha fatta senza la maglia del Bologna incredibile per quanto riguarda Juve Fiorentina a questo punto forse è meglio una vittoria della Viola il derby in mano dei giallorossi non è sicuramente una notizia piacevole vincono una gran partita l'avevo detto già anche ieri noi oggi abbiamo perso un'occasione però è un punto guadagnato sull'Atalanta ma soprattutto ho visto un Bologna che ha lottato che è stato presente e mi è piaciuta molto la gara di Ferguson non tanto in quello che è stato il suo ruolo da centrocampista ma nel suo ruolo di leader perché nel primo tempo in cui abbiamo fatto tanti errori l'ho visto due o tre volte al fare la voce queste sono cose che si vedono solo dallo stadio perché chiaramente non è che si riesce a riprendere tutto ciò che accade nell'arco di 90 minuti in tutto il campo però io ho visto Ferguson molto molto carico molto arrabbiato molto presente nella testa dei compagni a incitarli ad arrabbiarsi e l'ho visto molto 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 leader è una scena che mi è piaciuta particolarmente alla fine i ragazzi sono venuti sotto la curva il settore ospite ha cantato dall'inizio alla fine quindi un grandissimo bravi a tutti coloro che sono stati presenti oggi a Frosinone perché abbiamo spaccato ragazzi oggi il tifo è stato perfetto eccellente abbiamo cantato dall'inizio alla fine eravamo proprio belli 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 e tanto colorati abbiamo cantato dall'inizio alla fine dall'inizio non intendo quando è iniziata la partita ma già da mezz'ora prima i tifosi cantavano siamo stati belli davvero tanto 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 ci prendiamo questo punto rimaniamo uniti rimaniamo una squadra solida una squadra che merita quella posizione di classifica alla faccia di chi ci dice siete fortunati oggi siamo stati molto secondo me sfortunati perché alla fine Ndoje deve fare gol Ebischer deve fare gol Castro deve fare gol le occasioni le creiamo il Bologna è vivo il Bologna deve lottare tutte le partite come stanno facendo Atalanta Roma e anche Juventus perché ragazzi la Champions League è un sogno ma questo sogno per realizzarsi ha bisogno di imprese abbiamo Roma abbiamo Napoli ma soprattutto abbiamo prima il Monza in casa e sarà determinante raccogliere tre punti in ogni gara la cosa incredibile che non avrei mai pensato di vedere nella mia vita gente con la maglietta rosso-blu scontenta di un pareggio in trasferta dopo otto vittorie su nove questo non me lo sarei mai aspettato e non mi rende triste mi rende felice perché vuol dire che c'è ambizione e vuol dire che c'è grande fiducia rispetto a questo gruppo grazie ragazzi perché anche oggi io esco dallo stadio convinto di avere una squadra molto 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 forte insieme a voi fino alla fine perché quest'annata resta e resterà un qualcosa di indimenticabile ricordo di iscriverti al canale mettere in piaccia al video e andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico a seguire la pagina a seguire la pagina a seguire la pagina a seguire la pagina